Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Ma facciamo una telefonata a Nordio per dirgli che parlano anche al telefono. Adesso parto da quanto diceva l'amico Maiorino. E' vero, è assolutamente vero quello che dice lui, l'economia illegale, il supporto pseudo lavorativo che le organizzazioni offrono possono essere un momento in cui poi alcune persone preferiscono stare da quella parte rispetto alla legalità. Però è anche vero che non bisogna essere troppo giustificazionisti. Lo dico perché con gli strumenti culturali che ci sono nel 2023, chi sceglie di stare da quella parte non è che non sa. Ormai lo sanno, lo sanno chiaramente e quindi anche su questo, comprendendo la fame, i bisogni di quei territori, però non bisogna neanche essere più giustificazionisti. E arrivo anche alla sua giusta sollecitazione. Allora, nessuno, neanche Nordio, ha mai detto che su reati satellite, ha usato questo termine Nordio, di mafia, verranno limitate le intercettazioni. E non ha neanche, rispetto anche a quello che veniva da Riforma Cartabia, ha anche spiegato come invece non sarà necessaria la querela su questo tipo di reati. Ci abbiamo dato notizia quando è arrivata la chiesa. Quindi su questo voglio dire, ha detto una cosa che io credo che però non sia falsa. Cioè che purtroppo, lo dico, non basta neanche più un'intercettazione oggi per fare indagini di mafia rilevanti come quelle che hanno portato all'arresto di Matteo Messina Denaro. Perché abbiamo visto che purtroppo anche con persone che hanno perso la vita per mettere strumenti di rilevazione come il maresciallo al quale è stata poi dedicata l'operazione. Ci sono strumenti quasi da, anzi, non quasi, da controspionaggio ormai necessari per andare a fare queste operazioni così puntuali. Poi è chiaro che la mafia purtroppo, l'Andrangheta, la Camorra, la Sacra Colonna Unita, hanno anche altri tipi di attività più legate a questioni commerciali, finanziarie e sociali e quindi lì sì che le intercettazioni servono, ma nessuno negherà quelle intercettazioni. È chiaro che un boss mafioso, e in questo ha ragione Matteo Messina Denaro, dirà guarda sto venendo a chiederti il pizzo. È chiaro che invece persone che hanno altra rilevanza mafiosa sicuramente utilizzano ancora per fortuna il telefono. Fatemi vedere la frase di Nordio perché, come sapete, sono terrorizzata dal dire cose che non corrispondono perfettamente alla realtà. A proposito del telefono, se ce l'abbiamo, i mafiosi non usano il telefono. Mi sembra di poter dire questo con serenità. No, ha detto, non usano il telefono per parlare di reati. Un mafioso vero non parla né al telefono né al cellulare perché sa che c'è il Trojan né in aperta campagna perché ci sono i direzionali. Quindi non parla né al telefono né al telefono. Insomma, i pizzini non è che li ha inventati Nordio, vuoi dire. No, però diciamo, la sfortuna di Nordio è stata che c'è stata l'inchiesta su Messina Denaro e l'arresto. E lui aveva due telefonini cellulari. Però chiedo all'onorevole Maiorino, è stato un testa-coda questo? A parte, mi permetto di dire, che da parte mia prima non c'era nessun giustificato. No, no, lo dicevo a te, Piero, assolutamente. Lo dicevo. No, no, ok. No, ma a me pare proprio di sì, nel senso che siamo di fronte al fatto che Nordio è un po' imbarazzato. Io credo che si è lasciato prendere un po' troppo da una sorta di entusiasmo iniziale nel dire che volesse contrastare lo strumento delle intercettazioni. Cioè, ha detto cose molto esplicite, molto nette, molto dure. Io credo anche alla fine non adeguate al suo ruolo sul tema delle intercettazioni. E quindi adesso tenta di porvi rimedio. Però al di là di Nordio, diciamo, e di quanto uno si fa prendere dalle conferenze stampa... Il tema è questo. Cosa ne vogliamo fare? Io credo che non possiamo assolutamente privare i magistrati di uno strumento come quello delle intercettazioni. Altra cosa è l'abuso... Ma Eurino, ma ne ha parlato con Calenda, perché le dico, Calenda ha detto che l'intervento di Nordio è interamente condivisibile, rappresenta la linea di azione Italia Viva, che azioni Italia Viva hanno sempre eseguito. Su questi punti, una collaborazione, il terzo polo con l'esecutivo, sulla giustizia penale è attuabile. Vabbè, adesso non voglio continuare a parlare di Calenda. Eh, no, non so dove hai iniziato. Io però, siccome sul punto lei mi dice, attenzione, Nordio dovrebbe ricordarsi che messiere fa... Posso suggerire però una cosa, mi permetto, scusa Pier. L'unica cosa è l'uso, è l'abuso, magari in relazione al sottocircuito dei media. Questo è un tema. E' da qui che sono partite però le suggestioni che poi Nordio ha posto anche a Parlamento. Su due temi, sulla diffusione in debita delle intercettazioni e sul costo eccessivo delle intercettazioni rispetto poi al reale utilizzo come prova nei processi. Su questo è partito. Poi, se vogliamo soffermarci su una frase, però voglio dire, ecco, ricondurrei tutto questo su questi due punti che secondo me sono rilevanti e credo che anche tu possa essere d'accordo. Poi, ripeto, nessuno dal Premier in giù ha mai messo in dubbio che le intercettazioni sulle indagini di mafia possano essere limitate. Sì, ma i reati satellite comprendono anche la corruzione. Se c'è la gravante mafiosa, è così. Sì, ma il problema è che non è che... Allora, non sono un magistrato, però oggettivamente immagino che l'intercettazione non è che si presenta con il titolo questa è una telefonata di un mafioso che però non sta parlando di mafia ma di un reato leggero. Adesso diventa un reato di mafia. Ma proprio perché ne io ne te siamo magistrati immaginiamo che ci siano delle formule un po' più professionali per definire quali sono i reati satellite. Non interrompiamoci, dai, non interrompiamoci. Conosciamo da anni, non interrompiamoci. Allora, cioè io credo che il punto sia quello di non privare la magistratura di uno strumento che è stato utile ed efficace e anche questa vicenda... Fatemi sentire Caselli, ieri c'era qua Caselli. No, sul punto, fatemelo sentire. Mi sembra che metta un punto a queste valutazioni. Sentiamo Caselli. Aspetti, aspetti, Maiorino, torno.